Da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio si saranno otto categorie di 45 squadre che si sfideranno sulla sabbia di Baia Flaminia. Praticamente sabato pomeriggio inizieremo con under 13, under 15, under 17, una tappa del torneo nazionale Beach Seniors. Domenica mattina giocheranno i bambini dall'under 5 fino all'under 11, quindi sono il gruppo più numeroso perché vengono da sei regioni d'Italia, dalla Grecia, dalla Francia, si sfideranno sotto il sole, mi auguro, dalle otto e mezza fino a che non finisce, fino a verso l'una e poi faranno tutti insieme il terzo tempo, poi si faranno un pomeriggio prima di partire verso le loro case godendo del nostro mare. La peculiarità di questa manifestazione che facciamo da anni in Baia Flaminia praticamente è il fatto di poter stare con la propria tenda per due giorni, per due notti, godere dei vantaggi di questa zona, del nostro comune, dell'ente parco che ci concedono l'utilizzo assolutamente straordinario per poter ospitare questi bimbi, questi ragazzi, per fargli godere due giorni di mare, di spiagge, di gioco e di socialità. È un'iniziativa che promuove e valorizza quelle che sono le caratteristiche della nostra città, una città che vuole vivere di sport, è una città che ha il mare, quindi diciamo due elementi che si sono uniti in questa location fantastica che è quella di Baia Flaminia. Poi in questi giorni avranno anche la possibilità di vedere il tramonto sul mare, quindi meglio per una promozione cittadina a 360 gradi. Una città che si appresta a essere nel 2024 capitale italiana della cultura, anche quello che vogliamo promuovere, quello della sostenibilità, della cultura sportiva, quindi tutti elementi che grazie alle formiche rugby riusciamo a mettere insieme. Un'iniziativa che sosteniamo con grande impegno, grande interesse, grande passione, perché in questo evento e come in tutte le attività che le formiche fanno costantemente e quotidianamente ci sono dei valori di socialità importanti. Ricordo, non so se è già stato ricordato prima, l'evento, anzi l'iniziativa, il progetto Rugby che abbiamo promosso insieme alle formiche rugby come amministrazione comunale, un progetto che ha dato anche delle collaborazioni, delle nuove amicizie, tant'è che in questo evento ci sarà anche Patrasio, una delle città che avevamo ospitato l'anno scorso con Rugby. Un progetto che voleva promuovere e valorizzare il ruolo dello sport, nello specifico quello del rugby, come vitamina contro il bullismo.